Chantilly nasce nel 1992, ben 27 anni fa, nasce come un piccolo laboratorio di pasticceria e però poi nell'evoluzione degli anni abbiamo sempre cercato di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Sono Pietro Netti, titolare insieme a mia madre e mio fratello della pasticceria, gelateria e caffetteria Chantilly che si trova a Castellana Grotta. Abbiamo ampliato con la gelateria dove abbiamo tutta la nostra vasta gamma di gelati realizzati artigianalmente. Cosa importante è che non usiamo emozionanti nel nostro gelato, usiamo solo latte fresco, panna fresca, prodotti di prima qualità e di prima scelta. Nel nostro gelato di frutta, che tecnicamente viene chiamato un sorbetto di frutta, usiamo solo frutta fresca. Quindi tutta la nostra gamma che parte dalla pasticceria, dalla caffetteria e dalla gelateria, il nostro obiettivo è sempre la nostra passione, il nostro prodotto e la qualità. Vi aspettiamo in Largo Portagrande 72 a Castellana Grotta e ricordatevi è sempre l'ora di Chantilly.